Scappare uovo di Pasqua e uovo di Pasqua e Vi sono mancata? È passato troppo tempo? Un giorno è troppo? Volete 100 canzoni al giorno? No ragazzi, è un po' troppo, 100 al giorno? Una al giorno però c'è sempre, garantita le 14.30 tutti i giorni sul canale di Testi Senza Senso, volendoci si può iscrivere, chiaramente, lo dico en passant, si possono lasciare dei like sotto i video, si possono condividere, si possono commentare come alcuni degli amici di Testi Senza Senso fanno e io sono sempre molto felice se voi lo fate, potete anche scrivere va bene lo stesso. Allora, quest'oggi intanto cambiamo questo sfondo un po' industriale, la miseria, questi qua che scarpinata si sono fatti per arrivare qua sopra, mi viene fatica per loro, questa è una cosa, non so, di dubbia origine ma pare particolarmente ingrassante. Salon privé, macchina fotografica, una roba bianco e nero vediamo, 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 un po' a retro questa foto in bianco e nero. Qualche volta essi sin che questi studiare, scappare uovo di Pasqua, che bello, scappare uovo di Pasqua o e o o o o e mi dà. E basta. E. Allora teniamo e. Scappare uovo di Pasqua e. Siamo come sempre un po' in anticipo rispetto così alle festività e però questo uovo di Pasqua noi lo utilizziamo proprio quest'oggi, generiamo un testo e vediamo, randomizziamo, randomizziamo e ci mettiamo, anzi zeriamo, zeriamo. E mettiamo con questo uovo di Pasqua, mettiamo delle cose, mettiamo delle professioni, mettiamo anche degli arcaismi, perché no, dei sostantivi, perché gli arcaismi sono spesso sostantivi, dei verbi, togliamo gli articoli e mettiamo delle congiunzioni, vediamo che esce, genera testo, cioè nonostante leppa, sbiado, inchiostratore, abitare, pulticula, laurea, rubene o punzia, anziché gupo astrofisico, sentire robbi o tenere, però, ma perché non mi dici, ah, l'uovo di Pasqua è solo alla fine, arcaismi, oggi non posso tenervi, mi sa, allora invece dell'arcaismi mi ci metto gli animali, to, generiamo il testo, dunque, martora, lucertora, rete segnale, indoratore, ossia stenografa segnale, scappare uovo di Pasqua e. Sia accettare modellino, borsello, zantara, decidere, ziando, guidare seppia, microonde, ratto, embe, ingegnere ambientale, se, scappare uovo di Pasqua e. Fantastico, abbiamo tutte delle e, se, e, maestro di fitness arnia, pepistrello, alabarda, estrattore dedicare senza, macinatore guardare, no, pertanto ricamatore, astronomo giocare sebbene. Testo veramente di una macinatura particolare, diciamo, mettiamo la base, va, scegliamola. questa mi sembra quasi nuova, l'ho fatta già, è un po' hip hop, yo, yo, sembra così? Sì? Ah, che varietà. C'è sempre una roba di una monotonia. Vabbè, seguiamo a un certo punto perché sento delle cose che non comprendo. scappare uovo di Pasqua e. 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 Si accettare un modellino, borsello d'andare a decidere Eziando guidare seppia Microonde, rattenbe, ingegnere ambientale Scappare uovo di Pasqua e Maestro di fitness, arnia, pipistrello Alabarda, estrattore E dedicare senza Magina tu riguardare Non per tanto ricamatore Astronomo giocare Seppare 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 Seppare